e benvenuti o bentornati sul mio canale io sono arge e quest'oggi stiamo salendo come potete vedere su per la strada litoranea per fare uno degli ultimi giretti pre season 2023 e sì signori finalmente la stagione sta arrivando sono contentissimo stiamo finendo di preparare lucifer al meglio ad esempio ho già montato le nuove gomme e ho scelto per lucifer sotto il consiglio di alcuni di voi le pirelli diablo rosso 4 in questi giorni si procederà poi a effettuare il tagliando pre stagione vera e proprio presso il negozio di ducati carrara e poi siamo pronti per andare a divertirci sul serio intanto quest'oggi siamo qui con giacomino qua davanti godiamoci qualche curvetta e poi oggi dobbiamo parlarvi quanto tengono le nuove bocche grazie a tutti 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 torniamo al parcheggio che c'è un po' di gente va bene mamma mia arrivati allora ragazzi come vi ho anticipato prima io e Giacomo abbiamo da dirvi una cosa questa cosa vale per tutti i possessori di moto siccome siamo nel pre-stagione abbiamo deciso di aprire la stagione quindi le nostre uscite e soprattutto il mio canale a tutti voi quindi glielo chiediamo chiediamoglio se siete possessori di moto ripeto e volete fare un'uscita insieme a noi non vi resta che scriverci nei nostri canali social Facebook e Instagram quello di Giacomo ve lo lascio qui sotto e basta che ci chiedete vogliamo uscire con voi ci organizziamo andiamo a fare un'uscita che ne dici? andiamo fatevi sotto poi se qualcuno volesse anche iscriversi al canale perché no? è gratuito però ricordatevi anche di cliccare sulla campanellina così vi arrivano tutte le notifiche ogni volta pubblico un nuovo video e siamo qua al parcheggio sopra Rio Maggiore per chi di voi è della zona saprà sicuramente che è un luogo di ritrovo per tutti i motociclisti soprattutto adesso che siamo ancora agli inizi dei primi caldi quindi Giacomo li portiamo a fargli vedere un po' i mezzi che ci sono qua andiamo grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo portato un po' di casino nella pace del molo Quanta ignoranza ragazzi Andiamo a farci una merendina va Come vi ho detto siamo scesi dalla strada Siamo arrivati in centro a Spezia Adesso ce ne saliamo su Per il ponte Town di Revel Che è un posto bellissimo soprattutto la sera Ci vediamo al porto Mirabello E prende un caffettino qualcosa di caldo Perché qua c'è Giacomino che sta dormendo di in piedi Manco avesse fatto niente perché stamani io ero a lavoro Non abbiamo fatto assolutamente niente Soprattutto niente Eeeh Nada dai venite con noi Ci prendiamo un caffetto tutti insieme Allora Cosa vi avevo detto? Ci vediamo insieme Allora cosa vi avevo detto? Ci vediamo insieme per caffettino aperitivo Ecco L'abbiamo fatto ma non abbiamo registrato niente Perché eravamo di chiacchiere E il bambino urla Comunque Io direi che per questo video è tutto Vi ringrazio di averlo visto fino alla fine E a me e a Giacomino Non ci resta che salutarvi E come dico O meglio Come diciamo sempre Belli infanti Alla prossima Ciao